Siamo con Giovanni Fortunato, presidente del Consiglio Comunale di Santa Marina, che ci riferisce sull'incontro ottenuto con la cittadinanza attiva. È un'iniziativa sicuramente importante per il territorio, che stimola le istituzioni, in primis le amministrazioni locali, per cercare di tutelare un presidio ospedaliero di Sabri, un presidio importante per la nostra comunità, per la salute, per la tutela della salute di tutti i cittadini. Personalmente ho fatto tanto per l'ospedale di Sabri, prima come sindaco, dopo come consigliere regionale. Ho cercato in tutti i modi di tutelarlo e potenziarlo. In cinque anni ci siamo riusciti. Io spero che nel futuro l'ospedale di Sabri resterà potenziato. Ci sono molti problemi da risolvere. Per quanto riguarda il Comune di Santa Marina, a me personalmente, saremo sempre vicino a cittadinanza attiva, ma soprattutto vicino all'ospedale di Sabri, come perché è un presidio di dignità e di salute per tutto il Golfo di Policastro. Quindi io mi impegnerò, per quanto mi riguarda, anche per la mia parte politica, in Regione, anche in Parlamento, affinché l'ospedale di Sabri venga assolutamente sempre tutelato. Quindi sarò presente, come sempre, per tutelare e difendere la nostra terra.